ok benvenuti a tutti oggi vediamo di studiare il moto di caduta di un palloncino in aria allo scopo di stimare il coefficiente di attrito viscoso e lo faremo questo lavoro utilizzando una tecnica di visual analisi che sfrutta un software gratuito che si chiama tracker immaginate che qui abbiamo il suolo della terra qui c'è il nostro palloncino lasciato il libro di cadere la massa del palloncino sarà M il palloncino sarà soggetto a due forze la forza peso che lo spinge verso il basso e la forza di attrito viscoso che frena il movimento verso il basso e quindi in questo caso se in moto è caduta la forza di attrito viscoso sarà disvolta verso l'alto immaginiamo di prendere un sistema di assi cartesiani per esempio la nostra coordinata Y diretta verso l'alto e quindi nel nostro sistema avremo che il secondo principio della dinamica ci dirà che la forza risultante qui immaginate i vettori tutti proiettati sull'asse verticale quindi non scrivo sino di vettore sarà quindi la massa per l'accelerazione il palloncino varrà la forza pesa che è diretta verso il basso quindi meno p più la forza di attrito viscoso che è diretta verso l'alto ok quindi avremo scriviamo qua sotto massa per l'accelerazione che vale meno mg con g accelerazione gravità che 9,81 metri al secondo quadrato poi la forza di attrito viscoso fv vale meno il coefficiente di attrito per la velocità perché la forza di attrito e la velocità sono sempre vettori grandizze opposte la forza di attrito tende sempre a frenare l'oggetto e quindi a ridurre la velocità e adesso abbiamo l'equazione della dinamica che ci conduce all'analisi del moto dividiamo per la massa abbiamo che l'accelerazione vale meno g meno b fratto m per v ok g è un'accelerazione a e un'accelerazione e quindi vi essendo la velocità necessariamente avremo che il coefficiente b fratto m sono interpretarlo come l'inverso di un tempo di una scala di tempo tau quindi avremo l'equazione di questo tipo l'accelerazione data da meno g un termine costante meno la velocità v al tempo t diviso tau e quindi questa è la nostra equazione del moto abbiamo già visto interpretandola come l'equazione differenziale del primo ordine quindi la derivata della velocità rispetto al tempo l'accelerazione di ricordo che la rapidità con cui la velocità cambia nel tempo vale meno g con termini costante meno v fratto tau abbiamo già visto che questo tipo di soluzione con la condizione che il palloncino parte da fermo c'è v di 0 vale 0 conduce una soluzione del tipo velocità in funzione del tempo che vale meno g per tau che la velocità sintotica c'è dopo un tempo lungo il moto si stabilizzerà a questo tipo di velocità per un fattore essenzialmente esponenziale c'è 1 meno l'esponenziale di meno di fratto tau quindi qui abbiamo che in tempi lunghi la velocità assume questo valore meno g tau mentre all'inizio partendo da fermo se t e 0 l'esponenziale di 0 vale 1 quindi 1 meno 1 vale 0 quindi avremo un grafico di questo tipo per quanto riguarda l'andamento della velocità in funzione del tempo facciamolo in rosso per esempio una cosa di questo tipo scusate visto che cade verso il basso teniamo conto dei segni quindi questo lo correggiamo in questo modo avremo la nostra velocità parte da ferma questa pallina parte da ferma raggiunge la velocità meno g tau questo valore asintotico cioè in tempi molto lunghi e il grafico ha più o meno questo andamento dal valore nullo tende asintoticamente in modo esponenziale verso il valore meno g tau ok detto questo passiamo adesso a vedere il rifare questo tipo di analisi di studiare questo moto per il caso di una caduta reale quindi andiamo a prendere il filmato della caduta di un palloncino pieno per il sì uno ecco il professor boy joey brian brian joey dell'università dell'indiana che fa ha realizzato questo filmato e trovate su internet magari dopo vi metto il link e si vede che è stato filmato la caduta di caduta del palloncino nel filmato in realtà per come fatto il filmato la videocamera registra le varie posizioni del palloncino che individuabile nell'immagine in tutti i fotogrammi quindi utilizzeremo un software che traccerà il palloncino e rileverà la sua posizione in vari istanti di tempo da partire dal fotogramma zero che sarà il nostro istante iniziale lì per far questo utilizziamo il software traccer anche questo gratuito open source prodotto il professor dallas brown del cabrillo college in california scaricabile anche questo gratuitamente andiamo a caricare il nostro video qui abbiamo questa la finestra di lavoro di tra che qui c'è la finestra principale dove caricheremo il video andremo a studiarlo poi ci sono due finestre aggiuntive qui in altro c'è la finestra di grafici dove verrà graficata la dipendenza temporale delle nostre grandezze fisiche che avremo a disposizione possiamo definirne altre se ci servono altre e qui sotto gli stessi dati saranno riportati in forma di tabella e detto questo andiamo a prendere il nostro filmato lo trascina proprio sulla finestra principale ecco tra lo carica qui sotto i vari comandi play pausa riavvolgimento lo facciamo andare avanti vedete che c'è questo cursore che cambia indica quale fotogramma sta andando qui in teoria possiamo anche selezionare i fotogrammi che ci interessano con quest'icona la clip settings qui ci va bene dallo 0 al 29 quindi lo lasciamo così teniamo se dovessimo realizzare solo una parte del filmato chi sarebbe il commento opportuno per farlo sarebbe questo dopodiché andremo per avere le unità fisiche in unità corrette andiamo a indicare al software qual è la scala delle nostre immagini per far questo qui il professor brian aveva posto qui a fianco vedete quest'asta che lungo un metro qui andiamo nel strumento successivo a quello del clip settings che è questo clicchiamo una volta nuovo nastro di calibrazione questo modo definiremo una distanza standard quindi premiamo su maiuscolo il mirino di puntatore diventa un quadratino puntiamo sul primo punto quello più in alto siamo un clic poi mi sposto sul punto più in basso altro clic vedete che adesso mi appare una freccia una doppia freccia che dice che da qui a qui nella sua scala iniziale ci sono 193 metri per questo clicco una volta lo cancello e metto 1,00 metri ecco qui abbiamo comunicato appunto al software qual è la scala dell'immagine quindi adesso lui prenderà tutte le coordinate dei punti nella nostra frame nel nostro framework cioè quindi nella nostra immagine scalandoli nell'unità opportuna quindi in metri che qui adesso non vogliamo più vederlo perché non ci serve più lo tolgo il passo successivo è quello di associare al nostro sistema un sistema di assi cartesiani quindi l'icona successiva che questo è proprio quei due quei due assi clicco una volta e lui mi mette il sistema di assi cartesiani con l'asse dell'x allineato alla base orizzontale dell'immagine quello y lineato a quella verticale e qui cliccando sul centro posso spostare l'origine che io fisserò nella posizione iniziale del palloncino ecco qua in questo modo la coordinata y il valore iniziale sarà quello nullo proprio le posizioni centrali del palloncino lo togliamo all'occorrenza si servisse si può anche ruotarlo lo togliamo poi andiamo adesso a fare la parte principale della videoanalisi sarà quella di indicare che cosa vogliamo tracciare quindi diremo al software che individui nei vari fotogrammi una parte dell'immagine che è proprio la forma del palloncino verde per far questo andiamo su nuovo punto di massa lui crea appunto un mente un oggetto che chiama massa a questo che ha diverse caratteristiche e andiamo sulla routine auto traccia clicco una volta e mi dice che cosa vuoi che io individui nell'immagine allora clicchiamo sull'immagine tendo premuto il tasto maiuscolo e tasto control il merino si trasforma in un merino che adesso vado a posizionare al centro del palloncino clicco una volta e mi viene una scusate mi viene un riquadro rosso tratteggiato esterno questa è l'area di ricerca facciamo un pochettino più grande cliccando su questo bottone rosso in basso a destra quindi lui cercherà all'interno di un quadro così grande centrato su che cosa e cerca quello che c'è all'interno di questo contorno tondo per ingrandirlo uso questo puntatore rosso che c'è allo strano al latte faccio in modo che il contorno di tondo continuo racchiude la parte la maggior parte del mio palloncino in modo tale che il software non abbia dubbi su che cosa io voglio tracciare questo è un po troppo largo ma lo riduco un pochetto ecco e lui comunica qui in questo finestre mi dice ecco tu mi hai dato questo da cercare io ho trovato questo ti va bene o no e questo sarà quello che trovo via ovviamente ci sono i diti del professor braia ma nel successivo immagino ci saranno andiamo su cerca clicco una volta qui e lui fa l'auto tracciamento cioè cerchi in automatico anche vedete che riporta registra la posizione di quel particolare che abbiamo individuato in tutti i fotogrammi quando ha finito chiudiamo che abbiamo quella z non ci interessa andiamo a vedere la coordinata y lo che abbiamo vedete un primo moto con un'accelerazione che si smossa e poi sarà un moto rettilineo uniforme con la velocità costante andiamo ad analizzare la dipendenza della velocità seleziono clicco sulla y vado a vy vedete che c'è un decadimento simile a quello che abbiamo visto prima nell'analisi teorica diciamo del moto clicco una volta quel pulsante destro sull'immagine su questo grafico vado su analizza il software mi crea un grafico a parte qui i puntoline sono legati dalle da dei tratti rossi che non voglio vedere voglio toglierli e questi sono i dati che il software ha misurato qui ci sono alcuni sono un po ballerini perché calcolare una velocità che una tasso di variazione non è mai tanto tanto semplice come c'è un effetto in numeri però tutto sommato il grafico è abbastanza evidente l'andamento per confrontarlo con il modello teorico andiamo su analisi fit delle curve e lui mi dice con cosa che con che tipo di curva voi confrontarlo qui propone una retta che ovviamente non è quella che ci interessa andiamo su esponenziale 15 guardi propongo questo modello la v y che la velocità quella che ci interessa vale a un coefficiente a per l'esponenziale di meno t per b però abbiamo visto che questo non è la forma che ci interessa perché manca un termine costante appunto la velocità sintottica quindi faccio doppio clic su quest'area e lui mi apre una specie di editor dove riesco a modificare il tipo di modello quindi aggiungiamo un altro parametro che chiameremo c facciamolo pure anche tutti ci siamo pure partire da zero proprio aggiustiamo cambio il nome del modello anziché esponenziale lo chiameremo l'esponenziale che ne so uno ecco e qui l'espressione del modello sarà a per l'esponenziale di meno t per b a cui aggiungiamo l'altro parametro più più c ecco fatto adesso chiudiamo adesso confronterà con questo nuovo nuovo tipo di di modelli di curva teorica vedete che è un'ottima corrispondenza tra i dati sono ben distribuiti attorno a questo che lui che ha trovato con un autofit cioè la ricerca automatica e qui una cosa importante è ad esempio questo parametro b che è il coefficiente del tempo che nella nostra unità di misura era andiamo a vedere quello sulla nostra lavagna ricordate qui c'è ecco qua nel nostro modello avevamo il modello che tra che propone nel tipo v vt che vale a l'esponenziale di meno t per b più c ecco b è quello che noi avevamo visto essere uno fratto tau dove tau è la massa del palloncino diviso il coefficiente di di viscosità eccola qua m1 su tau e b su m quindi tau e m su b quindi il nostro nel nostro esperimento il video già il video ci dice che torniamo al momento di prima che ecco l'inizio c'è il dato sulla massa quindi la massa totale del nostro sistema è di 8,6 grammi quindi 8,6 per 10 la meno 3 kg dovendo usare unità standard e quindi adesso state andare a stimare il coefficiente b per far questo ok possiamo ricavarlo dal filtro che abbiamo appena fatto ma possiamo anche agire in questo modo possiamo andare a prendere una parte del software già costruito fatemi solo chiudere il grafico di prima questo lo chiudiamo il il software ci dà la possibilità di creare un'immagine sintetica cioè possiamo mettere all'interno del nostro fotogramma delle nostre immagini un indicatore che ci dà la posizione del palloncino in base all'equazione del nostro modello che quello da cui siamo partiti nell'analisi teorica iniziale quindi creiamo un indicatore di posizione cioè creiamo un'immagine che risponde alla domanda dove dovrebbe essere il palloncino se l'equazione che immaginiamo sia quella del moto fosse corretta per fare questo torniamo su nuovo anziché punto di massa andiamo sul modello di particella dinamica in questo caso ovviamente cartesiana c'è la ecco ci produce un altro ente un altro oggetto che chiama modello a qui lo indica ancora con indicatore rossi un cursore rosso mi cambiamo per prima cosa questo piccolore diamo lì per esempio un verde forte un verde acceso e ci dice qui è quella già cambiato il colore quindi il rosso è riportato il cursore che indica i dati rilevati nel software in a in verde strano i dati creati dal dal l'algoritmo che all'interno di tra che risolve l'equazione del moto il modello è definito in questa finestra che abbiamo come primo parametro la massa m che andiamo subito a cambiare perché la massa del nostro palloncino in chilogrammi è come abbiamo visto 8,6 grammi quindi 0,0086 e questi sono i chilogrammi della massa poi aggiungiamo un altro parametro che è il valore dell'accelazione di gravità scriviamo qui g piccola 981 a destra riportiamo il valore 91 e infine aggiungiamo il parametro b il coefficiente d'attrito viscoso doppio clic su questa finestrina ecco simbolo che prima che di scrivere b lasciamo pure che cominci da 0 qui l'espressione di partenza sono t uguale a 0 il frame l'istante iniziale tutte le coordinate sono nulle perché abbiamo messo l'origine nel nostro sistema proprio nella posizione iniziale del palloncino il palloncino parte da fermo quindi saranno 0 anche velocità e qui sotto andiamo a inserire l'equazione della forza che governa il moto del palloncino lungo l'asse delle x forse non abbiamo lungo l'asse delle y avremo ecco se riesco meno m per g meno b per v y che la velocità del palloncino nell'asse che ci interessa detto questo chiudiamo adesso se andiamo in play il tra che ci mostrerà il cursore rosso che rileva i dati che ha lu che della posizione del palloncino come li ha trovati quindi le misura tecnicamente e in verde la posizione del palloncino se il moto fosse regolato delle questioni prima con b uguale a zero vi ricordate no quando nel caso in cui l'equazione il moto sia senza attrito andiamo in play e vediamo che la traccia verde a un certo punto super di molto quella rossa perché perché ovviamente senza attrito il moto è molto più veloce però c'è molto più veloce se non ci fosse attrito qui per esempio aumentiamo ecco andiamo a graficare v y è un moto uniformemente accelerato quindi il grafico di una retta andiamo a confrontare questo con quello reale quindi qui posso dire ok in mostra il grafico del modello ma che in verde se io clicco sul pulsante destro quando con compara con selezioniamo la massa a e quindi chi mette sullo stesso grafico nei due i due grafici il grafico delle velocità misurate nella traccia rossa e quelle teoriche nella traccia verde quindi qui va aggiustato perché ovviamente questo non è corretto allora andiamo sul modello e adesso cambiamo il valore del parametro di attrito anziché zero cominciamo ad esempio con 0,01 un centesimo attrito piccolino torniamo su play faccio mandare quando il filmato e lui in mano che va avanti crea il modell'immagine modello anche qui vediamo che l'attrito è troppo debole è già diverso da prima non è più una retta ma la curva verde troppo devo troppo poco smorzata proviamo a cambiare l'attrito anziché 0,01 0,02 ecco questo già meglio vediamo con 3 a dire che siamo quasi è quasi ideale cioè torniamo sulla nostra immagine qui facciamo partire il nostro filmato adesso vediamo che la traccia verde segue quasi perfettamente la traccia rossa quindi le traccia rossa che la misura viene recuperata descritta piuttosto bene dalla traccia verde che è la traccia che mostra l'equazione del vivo cioè quando il nostro modello è applicato ai dati ai dati reali come vedete le due i due grafici sono proprio quasi uno sopra l'altro la stessa cosa questo adesso il modello lo possiamo anche chiudere la presa del modello se cambiamo per esempio cordine grandezza fisica anziché v y andiamo su y ecco la posizione del palloncino vedete che è in ottimo accordo sia il grafico rosso che eccolo qui vediamo un poco meglio grafico verde un pochettino più superiore ma non di molto quindi c'è una cosa direi ideale tra i due moti vedete c'è una prima parte dove la legge oraria è curva e dopo si comporta come una caduta rettilinea quando l'attrito ha un valore sufficiente a bilanciare l'effetto della forza peso per cui il moto diventa un moto uniforme e quindi quel caso l'accelerazione va a zero e la velocità diventa una velocità costante come indica il grafico ecco dv y e questo direi che è una grande una grande risorsa di track non che riesce a graficare il modello qui se torniamo nella nostra lavagna a questo punto possiamo dire di aver stimato il il valore anche un po più in alto il valore del coefficiente d'attrito b nella relazione che dalla forza di attrito viscoso come meno b per di b e quindi unità di misura newton fratto velocità metri al secondo scusate quindi nel nostro caso vi è stato stimato a essere 0,03 se non ricordo male newton fratto metri al secondo in questo caso con questo coefficiente si riesce a descrivere piuttosto bene il moto misurato di caduta del nostro palloncino e quindi il modello proposto dal questo tipo di relazione tra forza e tra forza viscosa e più discorso e velocità è efficace nell'interpretare il tipo di relazione che abbiamo trovato questa è la legge oraria del motore della posizione palloncino in caduta e della del 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 modello sovrapposto agli dati reali che questo è anche una possibilità che tra che ci offre cosa non non da poco di vedere un animazione dove il modello teorico prende vita perché vediamo l'equazione proprio dal vivo dove dovrebbe essere il palloncino se l'equazione fosse quella che noi abbiamo ipotizzato questo quello che si fa appunto in ricerca scientifica quando si propone un modello per un particolare fenomeno e poi si vanno a fare le previsioni basate su quel modello e poi si confronta con i dati reali qui dati reali sono la traccia in rosso e le previsioni del nostro modello sono la traccia in verde bene spero di essere stato chiaro grazie dell'attenzione alla prossima